Quinto gol in campionato, anche oggi entrando dalla panchina. Non credo che tu sia contento di partire dalla panchina, però se questi sono i risultati, cosa vuoi dire a Mr. Sottil? Va bene così? Come ti dico io, è difficile uscire dalla panchina, però se è così è così. Per me non mi arrabbio, perché tutti sanno che ho avvenuto un infortunio e è normale salire dalla panchina. Però per me no, se entro in campo voglio fare tutto per aiutare i miei compagni, aiutare la squadra con gol, assist, qualcosa. Quindi per me continuo così, ma voglio giocare dall'inizio sempre, perché sono un calciatore normale, vogliamo sempre giocare dall'inizio. E noi andiamo così, per me andiamo avanti. Questo è un gol importante, come quello contro il Sassuolo, perché è il gol del pareggio. Forse davvero tutti i gol di Beto sono pesanti, perché poi arriva una vittoria. E l'Udinese ha dimostrato carattere anche oggi. Ha subito gol e poi ha rimontato sesta vittoria consecutiva. Qual è il segreto di questa squadra? Lavoro, siamo una squadra molto, molto unita. Da l'anno scorso stiamo meglio, stiamo lavorando bene. Il segreto è questo, lavoro, unione. Sono contento per fare gol, aiutare la squadra. Sì, lo so che è la seconda volta che salgo la panchina per fare il pareggio. Ma senza me, se io non gioco, anche la squadra vince, perché io mi fido di loro. Grazie. Grazie. Grazie.